ruba i gioielli ok diamo un'occhiata prima si si aspetta aspetta con tranquillità giriamo intorno e tutti a terra come se danno la terra terra a terra a terra ho detto ho detto a terra ma non mandato la posta per mamma che come c'è presente chi sono i gioielli stronti come poi manda questi quattro coglioni ha pensato e per mamma che serva a sguocche questo è un tappo vede sti cazzo di gioielli questo che cazzo fai gavistolo allevate è la prima mission ma io io ho qua ma non so se stava divertendo io vi faccio copertura non effettuato deve prima seminare la polizia o vedi che servivo che ammazzavo questo qua questo qua rompe il cazzo tirare subito una testata sul cazzo nasale è un civile stupido ma manca possa con la pistola ma perché ha rotto il cazzo questo è già la seconda volta che erano per le palle che sono io boh ma un sacco di cadavere non mi scassate il cazzo non fate ancora un cazzo ma che senso scusa ma dimmi che sto trolla io che sto fuori dalla banca ma questo ma ma è uscito dai muri ci credo che m'ha visto sì è uscito da questo muro io sono fuori senza maschera prima cosa tu non scappi e tu pensi di poter si è uscito dal muro ci credo che m'ha visto devi portare dentro la busta cosa dobbiamo fare adesso ammazzare l'altra guardia vedi che cammina questo lo siluro dobbiamo silurare l'altra guardia occhio che arriva cazzo aspetta aspetta vado ad avvicinare cazzo ma il però ci sono i tipi il teroclodito è lì se muoverà a minimo io me lo possiamo silurare tanto aspetta aspetta metto il jammer no perchè ammazzare i civili fatevi andare giù vedi così fai questa è una rapina giù 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 vai mettete il trapano il trapano il trapano giù giù a questo è una cazzo di rapina giù fratelli sta giù giù io l'ho legato i due giù giù metti il trapano ho messo occhio ma non andrà fuori che ci sono gli altri civili ma mi sono solo da recuperare questa p***a che se ne era scappato allora ragazzi è tutto secondo i piani è tutto secondo i piani tant'è il barese che sta impazzendo ma tutto secondo me allora ma donna dalle fogne boys andiamo andiamo via occhio i cecchini da fuori ma come ci si arriva là ma arriva col farcecchino merda ah da qua dobbiamo fare il girus il motolus ragazzo sono completamente morto mi sono scendendo le fogne veloci ragazzi ma strada come si fa qui basta ti fare sai marzo è arrivata ma no non riesca che abito sta giù non vedo dove maledetto parese ma siete pazzi no ragazzi se ne farite fra tre quattro tre minuti non riuscivano ad essere entrato impazzito è messo lì che deve spara 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 ma per forza ma nella vita se non spari che fa già fai entra nel quadrato mazzo vuole entrare dietro al furgo oh my god lui ce l'aveva fatta vedere c'è una cosa buona di sto gioco è che i jumpsters non sono chiamati sulle porte cioè non c'è non c'è bianco ora no no ti zelmo Eccolo Lorenzano! Eccolo Lorenzano! La Zanoway Live! No non esce bene, oggi ce l'hai grosso! Che set! E' largo! That's what she said! Oggi è grosso e largo! Non è molto lungo! That's what she said! Ok! Oggi a quanto varia ragazzi si è accorciato e si è allargato! La batteria ha suonato l'inizio della sigla di Pornhub e lo hanno esposto da scuola! Non l'hai vista sta cosa? Ma la sigla di Reck? Quella tan 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 tan! No! Quella soft batteria! Cosa ne pensate delle relazioni tra compagni di classe? Che ottada di riavanti fino a che non finisce la scuola, ottada di rinde il culo del giorno! Potreste anche semplicemente provarsi, capire entrambi che non funziona e rimanere amici! Sì! Io spero che mi è successo così! Vabbè magari va lì a Tufini e guarda Gabbo e Silvia! Sono stato a mezzo con un mio compagno di classe e non ha funzionato! Poi amici come prima! Sono in discoteca, sono un ragazzo solare! Sono un ragazzo solare! Sono simpatico! Praticamente l'unica cosa che mi riesce bene nella vita è ballare il tunz tunz! Non importa quale sia la vostra età, anche da ragazzino potete tranquillamente ma senza problemi, senza problemi, riuscire a pensarci! Non è l'intelligenza, cioè non è l'età a fare l'intelligenza! Non è che perché sei uno streamer e dici ah Fortnite è morto perché le competizioni non sono buone! Sì, Benjifish ha 20 milioni! Non sono buoni! È l'unico gioco competitive dove uno realmente può fare i soldi anche se non è forte come Buga! Cioè è il primo gioco dove un sedicenni ha vinto 3 milioni! E ti stai lamentando pur per le competizioni! Se vai su Call of Duty e vinci il mondiale vinci 4,50 euro è una calata! È giusto così! Ma quella è l'unica cosa è semplicemente che ci sono molte persone che a parer mio onestamente Anziché pensare col proprio cervello perché un cervello ce l'avete tutti io sono sicuro che funziona bene molto meglio anche del mio Potreste semplicemente pensare con la vostra testa e al posto di sentire quello che magari dice uno streamer Lo streamer lo dice e tutti lo prendono per vero! Non è vero! Lo streamer dice, l'influencer o lo streamer dice una cosa, molto spesso lo dice per il suo interesse Capito? Sta a voi capire dove c'è la verità e dove la verità finisce Tutola